La forza di Manze è che lui andava dentro. Non è che sa, insomma, vai, dice, posso fare come vi pare? Sì. Allora, chi ha scritto questa lezione non capisce niente. Ci è strappa i fogli. Il problema è la lezione. Ah. Chi l'ha scritta non capisce niente di scuola. E neanche di televisione. Lei cosa ne sa? Eh, niente, però faccio il maestro e... E neanche di televisione. E' troppo tardi per lui. No, non è mai troppo tardi. Non è troppo tardi per Ricotta e per nessuno di quei ragazzi. E non è troppo tardi per lei, direttore. Liberta, ragazzi! Liberta! Insieme a me, insieme ai vostri maestri, e tutte con la lettera O. La vostra prima parola è anche mia. E comincia con la lettera O. La vostra prima parola è anche mia.